Io voglio arrivare alla fine, voglio avere il pezzo de carta L'unico problema è che non ha senso continuare con una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale Ciao sono Marco, studio al Politecnico di Torino ingegneria aerospaziale Dovrei essere al terzo anno ma io questo luglio non mi laurerò Questo video è come se fosse la continuazione del discorso dell'altra volta In cui mi sfogavo e tiravo fuori le parti un po' più psicologiche dell'andare all'università Questo perché non la vedo attorno a me molto raccontata O comunque, non lo so, vorrei aiutare anche gli altri che si trovano nella stessa situazione E vorrei tenere traccia di come si evolve il mio pensiero Nel mentre che anche io progredisco con il mio percorso di studi Temi psicologici che secondo me sono poco trattati O comunque si ha molto la remora di parlarne quando si è di solito all'università Che in realtà potrebbero aiutare tutti ad avere un po' più di conforto Soprattutto nei momenti in cui magari non si affronta il percorso Esattamente come ci si aspetta che si dovrebbe O comunque che tutti gli altri stanno affrontando magari leggermente più velocemente di noi Perché non bisogna dimenticare il fatto che alla fine Quando si guardano agli altri si prendono sempre di esempio Quelli che stanno andando molto più veloci di noi magari nella stessa pista Anche se poi in realtà ognuno sta correndo la sua corsa E ci saranno di sicuro persone che anche noi stiamo superando Quindi anche io sto superando certe persone E alcune persone supereranno me eccetera eccetera Quindi alla fine il succo è che tutti un po' seguono il loro ritmo E bisognerebbe più concentrarsi sul proprio E cercare di vedere quello che si può prendere spunto dagli altri E insomma rubare come un artista dai percorsi che stanno facendo gli altri Quindi ad esempio se sono in un team o se stanno facendo delle esperienze particolari Che anche noi ci piacerebbe seguire Per continuare questo diario del fuoricorso Vorrei partire dal fatto che mi rendo conto che attorno a me Praticamente tutti i miei colleghi si stanno laureando O comunque si dovranno laureare entro un mese E io invece ho ancora parecchisi ammi indietro E quindi mi laureerò almeno tra un anno Ormai è passato nella fase dell'accettazione per me Perché me ne sono ormai reso conto diciamo Quando ho compilato il carico didattico di quest'anno Quindi a settembre mi ero già reso conto che avrei sforato Non mi immaginavo magari di sforare di così tanto Che in realtà non è tanto Ma io mi immaginavo di laurearmi verso aprile Nel migliore dei casi Questa cosa difficilmente avverrà Ho anche il tirocinio da fare Insomma ci sono un sacco di incombenze Gli anni passati me la sono vissuta molto peggio Questa cosa perché anche lì avevo alcuni esami indietro E mi sarei aspettato magari di recuperarli Solo che il mio percorso è stato un po' più altalenante E quindi non sono riuscito a recuperarli Però l'accettazione è arrivata solo nei mesi scorsi Grazie al fatto che mi sono analizzato molto Del fatto che ho iniziato a prendere l'università In una maniera un po' più diversa O comunque a trovare giustamente anche la mia dimensione all'università E riuscire ad approcciare il percorso nella maniera migliore possibile La grande parola che racchiude tutto Questa consapevolezza di arrivare a essere un fuoricorso E la frase dello sticazzi anche dell'essere fuoricorso Diciamo che sto cercando di integrare tutte le cose Che non ho fatto fino ad adesso E sto cercando di dedicarmi Come voglio io a un percorso Che appunto devo customizzare Per quelle che sono le mie esigenze Diciamo che fare pace anche con questa cosa Dell'essere fuoricorso è stata molto difficoltosa Non dico che è facile rendersi conto che sei fuoricorso Dirlo, accettarlo E comunque quando lo dico in giro Ad esempio ad altri colleghi Mi trovo ancora in difficoltà ecco A dire no sono al terzo anno Però almeno mi laureerò ancora tra un anno Tutti dicono vabbè comunque è una cosa normalissima no Però accettarlo dentro di sé È la parte un po' più dura Lo scoglio un po' più grosso da superare Perché una volta che lo si accetta dentro di sé Poi è anche più facile parlarne E ci si rende conto che al di fuori Tutti sono concentrati sul proprio percorso E non sanno guardare il tuo Oltre al fatto che studiando una facoltà come ingegneria Che è molto complicata È accettato il fatto che ci si metta di più O comunque è un percorso sicuramente duro Che è difficile svolgere nel tempo prestabilito Infatti è facilissimo trovare In teoria le statistiche dicono 50-50 Su chi ce la fa a chiuderla in tempo E chi non ce la fa E infatti poi alla fine le medie sono altissime Il fatto è che in realtà Essendo molto richiesta Chi se ne frega se ci metti di più Proprio perché è difficile che non si troverà lavoro Soprattutto facendo ingegneria Però non è Il focus non è diciamo sul trovare lavoro o meno Il focus è proprio sulla parte psicologica Che è difficile affrontare comunque Anche se focalizzandosi sul proprio percorso Sia molto complicato diciamo Superare la fase del Ok accetto che il prossimo anno Sarò magari con colleghi Che magari si laureeranno a breve O eccetera Il percorso di accettazione del fatto che sono Un fuoricorso predestinato Arriva al punto che Ok perfetto Ci metterò un anno in più degli altri Come posso far sì che quest'anno sia lo stesso proficuo Quindi cercare di massimizzare lo stesso Le opportunità e le offerte che mi si potranno presentare un giorno Quindi in realtà anche se ci metterò di più Sto costruendo a fianco della mia sola carriera universitaria Un percorso molto interessante Quindi ha tutti i progettini Tutte le cose che forse uno concentrato solo sullo studio e basta Andare lì tirare e arrivare dritto alla laurea Magari non fa E sarà proprio la cosa che poi mi differenzierà in un futuro La consapevolezza principale è che Io sono diverso dagli altri E quindi ho bisogno di cose diverse Da quelle che magari hanno bisogno i miei colleghi Quindi questi mesi sono stati principalmente Un viaggio interiore alla scoperta di me stesso E ho capito diciamo cosa mi piace Cosa non mi piace E verosimilmente anche il fatto che Non sono sicuro neanche di continuare Con una specialistica in ingegneria aerospaziale Questo perché per come funziono io Non sono sicuro che sia così proficuo Comunque non sono sicuro di voler andare ancora ad approfondire altre cose O fare un percorso che in alcune parti è molto simile a cose che ho già fatto O comunque mi sembra di avere degli strumenti e non averli ancora usati al meglio E vedendo i programmi delle magistrali in aerospaziale Ecco non lo so Non lo trovo nelle mie corde E oltretutto lo trovo un po' come un forzarmi a fare una cosa che per forza si fa Cosa che in realtà vedo anche al di fuori Cioè vedo tantissimi che dicono Ah vedi non ho fatto niente fino adesso E quindi devo continuare a fare questa laurea O comunque magari si trovano in difficoltà Perché dicono eh vedi magari ho visto male Perché c'è poca coerenza nel mio percorso Io mi rendo conto che invece ho fatto tante cose belle Tante cose che mi sono utili Ad esempio ho molti concetti base dell'industria aerospaziale E a me bastano così Non mi serve altro Mi sembra però che manchi tante altre parti Che magari vedo anche più affine a me L'unico problema è che appunto attorno a me Vedo queste persone che non si fanno le stesse domande che mi faccio io Sul ma ha senso continuare con una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale Non le vedo E quindi qualche mese fa questa cosa mi mandava assolutamente in crisi Perché pensavo di essere un po' l'unico O comunque attorno a me sentivo proprio molto parlare Ah io faccio questa specialistica Faccio quest'altro Cosa che appunto focalizzandomi tanto sugli altri Sui miei colleghi Poi non mi faceva veramente analizzare quello che volevo io Ed è più importante essere coerenti con se stessi Con il fatto che troviamo nelle nostre corde magari qualcosa di diverso rispetto a qualcun altro E trovo in realtà per me molto più coerente anche per la persona che sono Il fatto di aver alzato la testa dopo tre anni E essermi analizzato e detto Perfetto fino adesso ho fatto delle cose che mi sono interessate O comunque che trovo utili Però nel futuro Dato che sto investendo del tempo Sto investendo in formazione È più giusto forse investire in quello che anche mi attira di più Ed è per me più coerente con la persona appunto Perché non ho mai fatto le tirate a testa bassa E chi se ne frega Anche nella mia vita ho fatto molti salti da una cosa a un'altra Magari anche se in quel momento la strada che stavo perseguendo era giustissima E mi avrebbe portato lo stesso a dei risultati molto elevati Però diciamo se mi analizzo anche nel passato Trovo il fatto che sono sempre stata una persona con molti interessi Cose completamente diverse tra di loro E soprattutto che dopo un tot di anni ho bisogno di aria fresca Ho bisogno di qualcosa che mi stimoli davvero e mi porti avanti E una specialistica in ingegneria aerospaziale Non penso che mi potrebbe dare tutti questi stimoli che io cerco Attorno a me non vedo gente che si fa le stesse domande Però sono sicuro che esistono Ed è proprio per questo che se esisti Scrivimi qua sotto E cerchiamo di avere un dialogo tra di noi Perché io sto cercando di esplorarmi Ma cerco anche di rubare dagli altri magari delle cose Che particolarmente trovo affascinanti e interessanti Anche per il mio percorso E quindi aggiungere gadget al mio percorso Da quelli che magari ho visto nel bagaglio di qualcun altro L'analisi interiore è stata diciamo facilitata Cioè dal punto che ero molto in difficoltà Mi sono poi trovato davanti un libro affascinante Che mi ha aiutato e che in realtà non ho neanche ancora finito di leggere Quindi sono mesi che lo sto leggendo Lo sto leggendo con calma Sto cercando il mio tempo per cercare di digerire alcune cose Questo libro è Designing Your Life Affascinante, bellissimo Di cui penso di portare anche una recensione sul canale Perché è un libro che aiuta tantissimo Ed è in realtà un aiuto Non solo adesso per noi universitari Potrebbe essere anche un aiuto per le persone del liceo E di sicuro anche nella vita È una cosa che ti può aiutare Perché ti fa ridisegnare le cose in una maniera diversa Cercando anche di essere abbastanza razionale Provare tante cose Sperimentare Ed è proprio questo quello che sto cercando di portare Su questo canale Cioè il fatto che questo libro mi ha aiutato talmente tanto Che una delle strade che io sto cercando di sbloccare È anche il fatto di parlare in pubblico E YouTube in questo caso va aiutando Oltre ad avere sbloccato diciamo la via di YouTube Mi ha anche sbloccato appunto sul discorso di analisi interiore E cercare di aprire il più possibile le mie strade Quindi non ho completamente deciso se non fare le specialistiche in ingegneria aerospaziale Però mi scrivo un diario che poi leggo e rileggo a mesi di distanza In modo da capire cosa pensavo in passato Rileggo i programmi Vedo se c'è qualcosa che realmente mi aggrada Anche perché non avendo ancora concluso tutto il mio percorso interiennale Mi sto cercando di settare per un anno di sperimentazioni E di cercare di trovare la via Il tempo per fortuna è dalla mia parte Quindi quest'anno non sarà un anno sprecato O comunque questa storia di essere un fuoricorso predestinato E di andare un po' più lungo rispetto agli altri In realtà è uno stimolo per me Per rendermi conto davvero cosa voglio fare Questo anno non è esattamente un gap year Perché io devo continuare comunque a portare avanti l'università Ma a lato dell'università cerco di aprirmi tantissime strade E cerco di chiarificarmi anche le idee per il dopo Quindi questa laurea Non dico che ringrazio di essere andato lungo Sicuramente tutti sognano di arrivare in tempo Però ci sono tantissimi puntini che sto cercando di unire adesso Sfruttare al meglio il tempo che ho davanti prima della laurea Quindi se qualche mese fa mi ritrovavo completamente in difficoltà E mi ritrovavo quasi bloccato addirittura di fronte agli esami Al pensare che ne avevo ancora tantissimi Adesso in realtà questo fatto di aver accettato l'essere fuori corso Mi sta portando a ragionare su me stesso In una maniera che è utilissima per me E questo tempo investito avrà dei ritorni altissimi Sono sicuro che invece molte persone non si pongono la domanda Proprio perché sono così concentrate nel fare la loro battaglia Del arrivare in tempo, fare in corso E comunque chiudere nei tempi giusti che poi alzeranno la testa solo una volta che arrivano Alla fine della specialistica La penso come è il momento peggiore per arrivare Perché poi sei impreparato a quello che ti accade dopo E' meglio forse metterci più tempo adesso Però capire, raddrizzare il tiro O comunque vivere l'università nella maniera giusta Cioè quella di sperimentare eccetera eccetera Sicuramente nei prossimi mesi devo stare però attento a fare gli esami A non perdermi in un bicchier d'acqua Perché al momento mi rendo conto che io ho seguito quasi tutti i corsi fino ad adesso L'unico problema è che mi stimolano talmente poco Che non ho tanta voglia di andare a fare questi esami Però giustamente io voglio arrivare alla fine Voglio avere il pezzo di carta Come tutti dicono E quindi se voglio quel pezzo di carta mi devo andare a prendere anche queste materie Che purtroppo avendo frequentato Forse era meglio appunto darle subito quando le ho frequentate Insomma come sempre non so se questo video ha un senso Perché quando li edito ultimamente mi rendo conto che molti discorsi sono tirati a cazzo de cane Però appunto come dice la descrizione del mio canale Questi video sono fatti prima di tutto per me Per dare forma ai miei pensieri E intanto poi alla fine mi rendo conto che nessuno li caga E quindi chi se ne frega Cioè è un diario per me per capire come si è evoluto il mio pensiero E il fatto che non lo so Lo scrivere per me non è una cosa molto affine E quindi non lo so mettermi lì e scrivere L'ho usato fino ad adesso Vorrei sperimentare appunto questo modo nuovo di creare il mio diario Naturalmente il secondo fine è anche quello di aiutare le persone Far vedere che ci sono altri colleghi che si trovano in difficoltà O comunque mi piacerebbe aprire il mio bagaglio E dire agli altri che sono nei loro percorsi Guarda se vuoi puoi rubare come un artista anche da me E trovare queste cose Perché quello che si sottovaluta secondo me all'università È proprio questa roba del aiutarsi a vicenda Rubare come un artista dagli altri Piuttosto che vederla come una competizione Del mi chiedo arrivare come tutti gli altri Al traguardo nel tempo eccetera eccetera Forse è meglio cercare i gadget giusti Che hanno equipaggiato gli altri E cercare di copiarli al meglio Adattandoli a noi stessi Il fine anche dei video oltre che essere un diario per me Sono anche quello di Se io avessi trovato qualcuno che diceva le stesse cose Qualche anno fa magari mi sarei anche risparmiato un sacco di stress E un sacco di blocchi Che poi mi hanno portato alla situazione che sono adesso Anche se in realtà non rimpiango la situazione che mi ritrovo adesso Perché è quella che poi alla fine mi ha dato la spinta Per esplorare e fare cose nuove E l'avere un diario personale è utilissimo per me perché il rileggermi Oltre al fatto che non ho scritto tutto purtroppo Però da quei pochi spunti che ho lasciato è stato un metodo per me Per riuscire a metabolizzare certe cose E rivedere anche il mio pensiero del passato su alcuni temi Io ti ringrazio di aver seguito fino a questo momento Se hai qualche tema di cui ti piacerebbe sentirmi parlare Scrivimelo qua sotto Ti invito a vedere i video che ti lascio qui E soprattutto di seguirmi nel mio percorso qui su youtube Sarò felicissimo di rivederti in un prossimo video E boh niente chiudiamolo sto video no?